E adesso vi presentiamo Paola Mary Blon. Ciao, ciao. Lei è una miss, un architetto, un artista, la bellezza in persona. Sì, sono un architetto ma per hobby ho iniziato a fare i concorsi, ho vinto un sacco di titoli, assoluti. Niente, ho fatto anche tante cose in televisione e continuerò a fare concorsi, anche prossimamente ho un'altra finale e continuo per questa strada che ho iniziato da qualche anno.